bene ragazzi eccoci qua seconda parte del montaggio del secondo video di accessori ho fatto già un video dove ho montato due cose le frecce i paramani così andate a vedervelo andate a vedervi anche la prima parte quella prima di questo dove montiamo tutte le protezioni adesso continuiamo perché avevo fatto l'unboxing nella prima parte dove avevo fatto vedere anche la questione kit beta per togliere il miscelatore perché tolgo il miscelatore allora tanti mi chiedono e ma come mai vuoi togliere il miscelatore mi hanno chiesto non è più comodo avere il miscelatore si allora la versione adesso vi spiego la versione rr ha sempre montato il miscelatore perché un po una comodità la versione rr racing lato lo tolgono per risparmiare un po di peso tra olio e tutto sarà un chilo risparmiate un chilo la moto è già l'amo uno dalle moto più leggera il due tempi uno dalle moto più leggeri il 302 che ci sono in circolazione 102 kg secco mi pare o 103 kg a secco andiamo a 102 kg e la moto più leggera non è per un chilo non mi cambia è solo una questione perché devo avere una cosa che si può consumare e non dico che si possa rompere perché allora il manuale mi pare che dice sulle 100 ore di cambiarla la pompa o 120 non mi ricordo bene un giorno facciamo un video dove c'è tutta la manutenzione con le ore però al di là di quello qualcuno la tiene su finché va anche 200 ore dopo rifaccio il motore rifaccio anche la non è una questione la pompa si ferma perché la pompa probabilmente non si fermerà mai prima che si fermi una pompa così sono cose di qualità magari fate anche 400 ore però magari non funziona bene il circuito si sporca facciamo un esempio la gestione dell'olio siccome è una gestione micrometrica non è che entra per fare una miscela al 2 su quello che entra di aria e benzina nel motore vanno dentro delle parti millesimale dei microgrammi mentre voi in base all'acceleratore con il sensore di posizione farfalla che c'è ovvio che con un miscelatore abbiamo una gestione migliore dell'olio quello non ve lo nascondo se fate la miscela voi la miscela è al 3 ed è sempre al 3 quando siete in basso carico di acceleratore è al 3 quando siete al massimo è al 3 diciamo tra virgolette sporca un po di più però se noi la teniamo io non la tengo neanche al 2 perché per me il 2 è un po poco io faccio 2 e mezzo poi quando il motore ha su un po di ore che comincia che è già bello rodato andiamo magari al 2 2 2 3 vediamo però il 2 e mezzo non vi costa niente non è una questione di pistone cilindro è una questione di cuscinetti di banco e biella che se più lubrificati cambierete una candela in più sarà quello che sarà ma non è che perdete sto gran potenza stiamo parlando di una moto da enduro non è che andiamo in pista strada con una moto da pista due tempi dove ogni millesimo di prestazione conta qua è un settore sportivo una cosa agonistica diciamo è anche amatoriale quello che è sporca tra virgolette non è la precisione della pista dunque anche se avete un po di cose grassi in più di miscela grassi in più male non gli fa al motore però tornando quello che dicevo prima può darsi che la pompa si falsi o che ingrassi di meno cioè che mandi dentro magari un 1 e mezzo non che si rompa ma che vi faccia magari la miscela che voi non vi rendete conto che già non fuma a 2 fuma pochissimo se usate un olio buono se si falsa qualcosa al motorino perde la sua cosa c'è l'ingranaggio che si comincia a consumare o il circuito che si sporca entra meno olio e voi girate all'uno con una miscela magari all'uno o l'uno e mezzo senza saperlo capite qual è il mio discorso io lo cambio per quello per non avere problemi io voglio una moto alla vecchia moderna ma alla vecchia nel due tempi alla vecchia la cosa che va meglio ragazzi ho sentito anche è un anno che sto dietro anche all'iniezione minarelli minarelli ha dei brevetti sui cilindri due tempi dagli anni 70 non è un'azienda nata ieri un domani magari sarebbe bello anche parlare un po di due tempi di cose però vabbè adesso non entriamo in altri argomenti sono il video diventa troppo lungo e sta facendo un motore iniezione un 300 iniezione doveva uscire questa estate non è ancora uscito parliamo di l'estate 2023 non è ancora uscito ho sentito dall'intervista gli ingegneri dicono che c'è molta difficoltà nel gestire due tempi perché il ciclo è la metà del 4 e poi è un ciclo sporco tra virgolette perché quello che il pistone aspira poi deve lavare nel senso con il gas combusti entrano i gas in combusti di aspirazione mentre lui butta fuori quelli combusti cioè c'è un mix dei due gas nella fase del due di ciclo del due tempi che non è facile da gestire per far sì che ci sia una carburazione giusta e la cosa naturale la cosa naturale fisica del carburatore è la cosa migliore perché diciamo che la carburazione che più aria aspira più depressione c'è più benzina tira in base ai getti che ci sono gli spilli e l'apertura del gas e la ghigliottina si regola tutto automaticamente sempre a qualunque condizione ovvio che se c'è più freddo c'è un'altitudine più alta qualcosa cambia qualcosina la pressurizzazione cambia l'umidità e così qualcosina vi cambia sul motore ma non stiamo parlando di un motore da pista in pista di una moto da strada sportiva due tempi di una volta qua parliamo di un enduro quando siete leggermente state un po' magrettini leggermente sul grasso però vi gestite la vita del minimo dell'aria per gestire un attimino la transizione la prima transizione acceleratore un po' magrettina quando andate in altitudine lo smagrite e restate più o meno su quei getti lì vi resterà appena appena magari lo sentite un po' di barbottamento leggero in discesa ma la moto va bene quando è carburata bene in azione è difficile stesso discorso vale per il miscelatore io se è possibile voglio una moto la vecchia perché l'enduro non è una moto che si vanno a fare centinaia di chilometri io quando in un giorno faccio un quel trasferimento un po lungo che sono andato anche vedete andate a vedervi il video croce domini maniva bello vado su per le montagne un bel posto un domani su un furgone vado su un attimino fare un po di allenamento nei prati ci sono un po' di rocce sentieri con le pietre bella zona c'è fresco perché non siamo nei boschi siamo su in altitudine però faccio cento in tutto saranno tra andate e ritorno 120 chilometri 20 30 di sterrato basta mi faccio la mia miscel un pieno è abbastanza a 9 litri mi porto un litro nello zaino se volete fare un giro un po più lungo ce la fate anche con il due tempi anche 200 chilometri li fate riportate al vostro litro di benzina se non ci sono due distributori due litri fai 13 la moto di media di media vuol dire che se andate regolari sulla sulla strada ai 70 80 fai 15 poi siete giù di giro nella moto da cross sempre su vi evitate i problemi allora dai basta chiacchiere perché io chiacchiero troppo il video si dilungano allora parentesi iscrivetevi al canale se vi piacciono questi video le manutenzioni queste queste chicche qui che vi servono magari per qualcosa perché poi facciamo anche altre cose adesso andiamo andiamo verso le 10 ore gli ammortizzatori sono come si sono belli smollati facciamo la misurazione vi faccio vedere due cose magari dal sag che spiego due cose base delle forcelle come come gestire un attimino dai iscrivetevi al canale ci sono i bottoncini di super grazie se vi servono questa manutenzione di queste cose donate al canale che fa sempre piacere per andare avanti ci sono anche gli abbonamenti andate cliccate il bottone che vedete cosa cosa c'è non è niente di che per supportare il canale ci sono le risposte prioritarie perché tra un po' non riuscirò a rispondere a tutti abbonato invece li rispondo poi c'è un'altra fascia dove vedranno i video che carico prima li vedono subito mentre li carico invece di aspettare il giorno che devono uscire questa priorità qui ma sono cifre 2 euro 1 e 2 euro al mese l'altra 4 99 per proprio quello che mi vuole supportare e potete toglierlo quando volete non è che un abbonamento quando lo fate va avanti a vita lo fate con google pay quello che vi associate paypal vi associata la carta di credito quello che volete io google pay da una vita con la carta di credito associata o paypal dove su paypal associato altre cose vedete voi sempre a gradito un aiuto come bene iniziamo ragazzi sennò qua ci dilunghiamo troppo iscrizione campanella e solito solfa allora con cosa iniziamo ci avete perplessità o dubbi chiedete pure io avevo smontato anche il miscelatore sul beta 200 che avevo c'è il video però questo quello la era il telaio 2019 prima 2019 questo probabilmente c'è qualcosa di diverso perché fatto diversamente comunque io ho pensato tiriamo via questo perché il miscelatore si trova qui è avvitato con due viti qui togliamo la nostra copertura del filtro qua non vi faccio vedere perché non c'è niente sono tutte cose che trovate anche sul manuale togliamo il nostro filtro perché ci dà un attimino di agio filtro ancora bello pulito hanno fatto situazioni polverose diciamo poi cosa dobbiamo fare svitiamo i nostri fianchetti ok che poi andranno tirati a 7 newton metro ragazzi 7 newton metro non tirate come dei ridannati per togliere quattro viti sono tutto il telaietto sotto perché andiamo a togliere il codino per avere agio tenetegli una mano tenetegli una mano uguale a quella che c'è di qua due viti qua sopra semplice miscelatore questo vi trovate in questa situazione qui abbiamo il nostro miscelatore il miscelatore adesso lo svitiamo che è tenuto con queste due viti qua sopra come vi dicevo prima sa che bisogna staccare la pompa per poterlo farlo uscire batteria batteria semplicissimo togliere la batteria staccate i due poli sopra prima almeno e poi il più togliamo la nostra batteria piccola al litio molto leggera e molto potente molto potente la batteria al litio poi leggerissima cioè peserà 300 grammi leggerissimo ok e ci troviamo nella situazione in cui il miscelatore è tutto questo è tutto un corpo unico secondo me va la copertura della cassa filtro va sganciata la copertura della cassa che fa anche da parafango una vite poi c'è un'altra vite qua dietro tra vite qua dietro c'è una vite all'altezza qui dal serbatoio che tiene la plastica della cassa filtro qua la vedete che la sto smollando non voglio girare la telecamera tanto capite c'è solo quella poi c'è un'altra vite come questa qui due vit con la bussola del 10 qua sotto che tengono tutta la plastica del parafango al telaietto troviamo in questa situazione bisogna togliere il telaietto ragazzi niente da fare non volevo toglierlo ma invece mi tocca invece mi tocca due viti del telaietto vite dal serbatoio e le due laterali qua togliamo anche lo scarico ovviamente quattro viti del telaietto togliamo lo scarico carico giù telaietto la fascetta che tiene la cassa filtro vediamo dovrebbe uscire tutto tutto insieme bisogna alzare togliere il serbatoio dai non sapevo che bisognava togliere il serbatoio bisogna sganciare la fascetta un bel lavoro se seguite il video risparmiate qualcosa perché in officina un po di soldi ve li fanno spendere a fare un lavoro così qui c'erano dei fili da sganciare che non mi ricordo quali erano ah le canette le canette che però io voglio lasciare lì perché non mi interessa così voglio solo alzare questo per poter togliere questo cosa qua che rompe i coglioni che rompe i coglioni e li mettiamo dentro un rivettino con una fascetta ok così non esce l'olio e non vi entra aria allora chi lo vuole lo vendo in questo miscelatore chi ne ha bisogno se ne avete bisogno contattatemi togliamo la cannetta dell'olio ok gli mettiamo dentro un rivetto e gli mettiamo una fascetta questo video è molto lungo ragazzi portate pazienza ma che rivettino nella cannetta dell'olio e fascetta per fermare l'olio poi chi lo monta ci sarà un attimino di aria magari parte già con un po di serbatoio con una miscela al 2 tanto che si fa tanto che si organizza l'olio insomma tutto questo per togliere il parafango sotto con la cassa filtro per poter far uscire il miscelatore da lì perché tutto incastrato tutto incastrato precisione e non è così scontato bisogna aprire il telaietto e farlo uscire vedete dopo esce da sotto intanto scolleghiamo devo far vedere se non capite lo so che magari può essere un po complicato ma questa questa la cannetta che passa fuori dal carburatore poi abbiamo chiudere dobbiamo togliere questa cassa filtro di gomma dal telaietto bisogna aprirlo perché dentro incastro probabilmente esce anche a scivolo però io voglio aprirla così e riuscire a togliere qui dentro ci sono i comandi c'è la presa della pompa dell'olio che va sganciata intanto perché tra un po' esce questo il sensore del livello della riserva che non ci interessa più qui abbiamo il suo fermo che lasciamo lì e qua dopo attaccheremo il nostro coso del sensore vedete ok siamo già a posto ok allargate tutto che esce qui c'è un altro fermo qua sotto poi rimettiamo al suo posto il miscelatore qua ragazzi chi lo vuole lo vendo va bene per tutti i modelli dal 2019 dal 2020 in poi contattatemi nella mail del canale nelle info del canale andate da desktop però non da telefono se lo volete ve lo vendo è nuovo lascio dentro anche l'olio così non entra aria togliamo tutto riassembliamo questo intanto colleghiamo il nostro antierrore che è questo qua il nostro antierrore poi lo fascettiamo magari qui così sta fuori dai coglioni resta più libera anche la zona della cassa filtro vivendo tutto il miscelatore nuovo costa 200 euro 100 qualcosa qui c'è anche il suo collettore il suo kit il kit miscelatore mi pare che costa 200 euro comunque riassembliamo questa zona qui perché è tutta bel casino bene la nostra cassa filtro abbiamo spostata questo metodo un po veloce bisognerebbe togliere il serbatoio staccare i cavi per lavorare un po meglio però stiamo lì a smontare tutto io cerco di fare le cose per fare un po prima quello che serve più veloce dobbiamo togliere sempre questo perché rompe sempre le scatole paracatene parapignone paracatene raggruppatevi le viti perché ce ne sono talmente tante io vado dopo vado di intuito ma data nel panico d'ho panicato ora gruppate le cose vicine dove sono così non sbagliate o lo mettiamo da parte diamo su un po i nostri sfiati per non andare a trovarvi nei problemi qui c'è una fascetta che non fate entrare sporco mi raccomando la nostra otto a snodo perché ci vuole una otto a snodo non riuscite ad entrare allora anche qui dietro il carburatore voglio farvelo togliere non andrebbe tolto ci lavora meglio ok toglierlo togliamo lo spinotto qui un po più di agio qui abbiamo dei collegamenti hanno fatto passare i tubi dietro qui più che altro che bisogna scollegare molte cose è per quello che non voglio toglierlo ci sono troppe cose da scollegare e allora una rottura di coglioni poi abbiamo la nostra esagonale quella col pallino interno strana e bisogna averla la nostra esagonalina col pallino interno se vi esce non togliete tutto il pacco del lamellare che non serve non si vede niente perché collettorino con l'iniettore io vedo che qua non c'è guarnizione perché perché non c'è questo è un po gommoso invece quello che noi cambiamo com'è è duro dunque mettetela se l'hanno messa c'è un motivo ok se l'hanno messa c'è un motivo mettetela quale è uguale bagnatela con un po di olio attenzione allo sporco mettete le viti raccomando non tirate come i muli non sfondate tutto non tirate troppo perché non serve quando è dura vi fate fare ancora mezzo giro colpo di fiati il nostro carbo la nostra fascetta stiamo dimenticando fascetta ok carbo cavi da far passare i nostri tubi bene carburatore montato viti tirate tubi fatti passare come prima che deve entrare qui tra l'ammortizzatore il filtro entrato cominciamo a mettere le viti mettere le viti così si posiziona un po tutto guardate bene i cavi cosa che vi sono rimaste chiediamo il nostro telaietto qui c'era già dentro un po di frena filette tiratelo questo perché telaietto montato bene allora la situazione è questa non vi ho fatto vedere tutto il video del rimontaggio di tutto comunque è un lavoro un po laborioso perché va tolto il serbatoio va tolto il telaietto sganciato la fascetta tolte le quattro viti del telaietto tolte le viti della carrenatura seguite il video passo passo e poi mettetevi da parte tutte le viti perché sennò vi viene fuori un casino della madonna non capite più niente tolto il carburatore abbiamo messo il suo collettore nuovo senza iniettore e adesso ci manca da montare sul filtro filtro che è bello pulito andiamo a montarci il nostro filtro subito montato ok filtro montato montiamo la nostra plastica che va sotto lì poi si incastra qui e poi uno e due posto adesso vi faccio vedere allora come vedete risulta che non c'è più l'iniettore dentro il collettore di aspirazione manicotto abbiamo ricollegato tutto controllate l'acceleratore perché è importante che non sia magari incastrato da qualche parte che ci sia ancora il suo gioco giusto non abbiamo più il nostro miscelatore che era posizionato qua dentro resta bello libero abbiamo la nostra batteria che si muove un po magari gli mettiamo un po di gommini perché mi sembra un po che che balla che vibra abbiamo montato tutte le nostre viti sotto va tolto il telaietto sotto seguite il video passo passo se avete dei dubbi se non ve lo fate fare dal vostro meccanico io faccio questa cosa perché almeno qualcuno magari ne ha ne prende spunto e risparmia qualcosa abbiamo ancora i nostri due adesivi beta factory per le forcelle inclusi nel kit ZF lo lascio però beta factory glielo mettiamo bene ragazzuoli video molto lungo sono dimenticato di montare la sella video molto lungo ma serviva perché nel processo un po lungo comunque il nostro miscelatore non c'è più mettiamo una bella miscela al due e mezzo ancora però adesso sono saranno circa nove ore 9 10 ore di motore neanche due e mezzo poi quando siamo sulle 20 ore andrò al due 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 vediamo sporcare non sporca perché se usate olio buono io adesso sto finendo il motorex il motorex due tempi cross power non fuma non sporca se non io ancora un po due chili da finire vado avanti con quello poi voglio provare quello che dice beta liqui moli che profumo ha devo provare anche un ricinato vediamo posso sentire un po l'odorino di ricino comunque se vi è stato utile questo video o vi interessa insomma anche altri video riguardo le manutenzioni andate a vedervi la playlist del canale dal beta r 300 2024 quando ho montato tutti gli accessori facciamo una bella carrellata della moto perché è veramente bella mi piace molto mi piace di più esteticamente a me piace di più del ktm il ktm e tozzo e tozzo e grosso c'è le carrenature ciccione sembra una moto ciccione infatti anche più pesante questa quello che vedi e la leggerezza e difatti anche più leggera una bicicletta un 300 così una bicicletta ragazzi andate da per tutti bagnari allora restate sintonizzati perché arriveranno altri video ho ancora degli accessori da montare importanti volevo fare su ancora un po di ore vediamo però prima che arriva la situazione autunno devo cambiare le due gomme arrivare anche un accessorio molto utile quando vi serve il cambio gomme un'altra chicca per trasformare queste gomme tubeless e poter andare giù con la pressione a fino a 0.4 o anche 0.3 praticamente il top senza montare mousse perché la mousse è un po' una sbatta costa è uno sbattimento smontarla e rimontarla quando devi cambiare anche le gomme adesso ho già ordinato la coppia di mislein medium perché sono quella alla fine che volevo provare la mitas dietro ma vediamo davanti mislein medium buona e bella morbida più morbida di questa io l'avevo presa anche per il beta 200 questa che c'è scritto soft i tasselli sono più duri del beta medium c'è del scusate del mislein medium anche dietro mislein medium 140 140 e davanti 190 90 21 e farò i vari video per far vedere un po' anche la questione smontaggio gomme voglio portarvi anche lo smontaggio gomme che può magari può essere utile per qualcuno con tutti gli accessori sotto nel link in descrizione e aiuterete il canale dai gnari lunga vita al carburatore e al ciustro un saluto a tutti alla prossima iscrivetevi mi raccomando e cliccate il bottoncino di mi piace perché se no non andiamo avanti dai gnari grazie a tutti